Il concetto di fisioterapia di comunità è uno dei cardini della medicina del territorio, una proposta che risponde alla sfida più importante che oggi il sistema sanitario nazionale si trova ad affrontare, riportare i servizi sul territorio e farli diventare più vicini ai cittadini e alle loro necessità. Ne parliamo con Melania Salina, vicepresidente della Commissione d'Albo Nazionale Fisioterapisti. Benvenuta, dottoressa. Grazie, grazie mille. Grazie per l'invito. Grazie a lei, dottoressa. Ecco, iniziamo subito spiegando a chi ci ascolta chi è il fisioterapista di comunità. Il fisioterapista di comunità è un professionista sanitario, è un professionista laureato, che il fisioterapista esiste già, ma è un professionista che impara a leggere e a dare risposta ai bisogni nei luoghi di vita dei cittadini. Questa è la grande innovazione che questa proposta porta con sé. Il fisioterapista di comunità è uno dei professionisti sanitari che vive all'interno del team delle cure primarie. Le cure primarie sono le cure più vicine ai cittadini, e lo dice il nome stesso, cure primarie perché sono la prima risposta di salute e sanitaria che si dà ai bisogni dei cittadini, accanto quindi al medico di medicina generale, accanto all'infermiere di comunità. Queste sono le tre figure cardine in grado di dare risposta ai bisogni che i cittadini manifestano. La recente pandemia ha dimostrato quanto sia necessario questo tipo di organizzazione dei servizi, la vicinanza ai luoghi di vita delle persone, quindi fuori dall'ospedale, nei territori, negli ambulatori, nei presidi proprio prossimi, vicini al bisogno. Ecco dottoressa, quali sono i tre concetti che stanno alla base proprio del concetto ancora più ampio di fisioterapia di comunità? Allora, noi abbiamo voluto identificare tre macro colonne, tre cardini di questa nuova figura. Il primo concetto che ci ha spinti in questa definizione, in questo orientamento, è proprio la necessità di superare, di andare oltre l'ambulatorio, di uscire dall'ambito della prestazione specialistica, che non significa perdere di capacità di impatto e di risoluzione dei problemi, ma significa proprio proporre le risposte in una maniera nuova, che non è quella della prenotazione al CUP, della ricetta rossa, per capirci in termini molto semplici, delle liste d'attesa per accedere poi alle prestazioni riabilitative ambulatoriali, che sappiamo essere un problema molto grosso e molto pressante per i cittadini. Quindi superare l'ambito dello specialismo. Il secondo principio è quello che le competenze del fisioterapista sono già pronte per questo tipo di organizzazione, che ripeto è nuova, non esiste in questo momento, se non per una sperimentazione importante che si sta facendo in Toscana, nella regione toscana. Quindi le competenze esistono, vanno ampliate, vanno avanzate rispetto ad alcuni aspetti, ma il fisioterapista è già predisposto per questo tipo di attività. E il terzo punto, il terzo cardine che ci orienta in questa nuova frontiera, è proprio la voglia di innovare la fisioterapia, la voglia di procedere con proposte nuove che incontrino i bisogni delle persone. E devo dire che la pandemia ci ha dato ragione, perché è ormai evidentissimo che il modello ospedaliero, il modello ambulatoriale, non è più sufficiente a creare quel presidio di salute e di cui i cittadini non solo hanno bisogno, ma a cui hanno diritto. Certo. Dottoressa, cosa accade in Toscana appunto? C'è questa sperimentazione in atto? In Toscana succedono cose molto interessanti per quanto riguarda la fisioterapia, nel senso che c'è già da tempo, la Toscana ha formalizzato una delibera di giunta che ha normato per quella regione le attività del fisioterapista di comunità, per cui in Toscana ci sono già dati molto interessanti, evidenze molto forti che questo tipo di organizzazione, e lo ripeto ancora una volta perché è il punto di forza di questa proposta, questa organizzazione vicina ai cittadini, si traduce poi in guadagno di salute anche molto evidente e in risparmio di risorse per il sistema, perché arrivare prima e arrivare prima ancora che il cittadino debba chiedere qualcosa significa accorciare i tempi ovviamente di cura e di riabilitazione e significa anche prevenire tutta una serie di complicanze che poi sono un danno oggettivo per la persona e un costo importante per il sistema. In molti casi si riescono anche ad evitare ricoveri grazie a questo intervento precoce. Quindi la Toscana ha normato con un atto regionale l'istituzione di questa figura e in occasione della pandemia ha anche istituito le cosiddette, scusate, USCAR, cioè le USCA riabilitative, le USCA organizzate con il fisioterapista al posto dell'infermiere, per cui tutti i bisogni di tipo riabilitativo vengono in prima battuta, presi in carico da questa microequip con il fisioterapista e se c'è bisogno dello specialista, lo specialista viene attivato poi in seconda battuta. Esattamente dentro il principio delle cure primarie quindi, sempre in collegamento con il medico di famiglia. Certo. Ecco, qual è la differenza tra il fisioterapista che conosciamo tutti noi e il fisioterapista di comunità nell'ambito delle competenze? Allora, il fisioterapista di comunità, oltre a essere un fisioterapista e quindi saper fare e saper decidere rispetto a tutta una serie di patologie, di situazioni di compromissione della salute del cittadino, che cosa dovrà saper fare, che cosa deve saper fare. Ma innanzitutto avrà e ha in Toscana grosse competenze rispetto all'epidemiologia dei bisogni, cioè sa leggere, sa interpretare i bisogni di salute di un territorio, di un pezzo di territorio. Non è assolutamente scontato che un contesto urbano o un contesto di montagna o rurale abbiano le stesse necessità, anche in relazione all'organizzazione dei servizi. È evidente che in un contesto di montagna alcune soluzioni ed alcune strategie devono essere assolutamente peculiari. Inoltre il fisioterapista di comunità è un esperto nell'utilizzo delle tecnologie, per cui tele-riabilitazione, tele-fisioterapia, tutti strumenti che consentono di seguire nel tempo i bisogni e l'evoluzione delle patologie croniche. Terza cosa molto importante, il fisioterapista di comunità si occupa quasi esclusivamente o comunque in maniera assolutamente prioritaria delle patologie croniche, mentre il fisioterapista tradizionale risponde ai bisogni acuti, subacuti, subito dopo un ictus, subito dopo una frattura. Il fisioterapista di comunità segue nel tempo l'evoluzione di alcune patologie croniche o neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, che hanno bisogno di essere seguite nel tempo, hanno bisogno di essere accompagnate nel tempo, proprio perché sono patologie che cambiano durante l'arco di vita di una persona. Quindi si supera il concetto dei cicli di terapia, prescrivo dieci sedute due volte l'anno, perché le malattie purtroppo non funzionano così, le malattie mostrano dei cambiamenti progressivi e noi dobbiamo essere vicini alle persone durante tutto questo arco di vita. Senta, dottoressa, la senatrice Paola Boldrini, vicepresidente della dodicesima commissione permanente del Senato Igiene e Sanità, ha annunciato la presentazione di un disegno di legge a sua firma incentrato proprio sulla figura del fisioterapista di comunità. Ecco, quale sarà il percorso che dovrà seguire questo disegno di legge? La senatrice Boldrini, che ovviamente noi non finiremo mai di ringraziare per l'attenzione che ha saputo cogliere rispetto a questo bisogno, ha presentato, nel senso, ha concretizzato questo progetto di legge che adesso è al vaglio degli uffici legislativi del Senato e devo dire che sta raccogliendo anche il sostegno di molti altri partiti, per cui sarà una proposta davvero sostenuta dalla, speriamo noi, la totalità dell'arco parlamentare, proprio perché quando si parla di salute i colori politici non contano, quindi devo dire che già moltissimi partiti hanno aderito e hanno sottoscritto questa proposta e quindi l'iter noi speriamo sia molto rapido, appena gli uffici legislativi daranno l'ok rispetto proprio al confezionamento tecnico della proposta. La proposta verrà chiaramente depositata e diffusa, si avvierà l'iter ma per quelli che sappiamo essere gli appoggi siamo molto fiduciosi che l'iter sarà davvero rapido. Oltretutto questa proposta mi consenta di dire ancora questa cosa, si inserisce perfettamente nel grande piano, nel grande recovery plan che punta proprio sul potenziamento del territorio, quindi le condizioni per riuscire a fare bene e presto ci sono tutte. Senta, ma dal punto di vista della formazione, vogliamo dire a chi ci guarda da casa se ci sarà bisogno di un percorso diverso, particolare, come sarà formato il fisioterapista di comunità? Allora, guardi, anche questo è un tema assolutamente centrale perché il primo punto è quello della tutela e della sicurezza dei percorsi per i cittadini. Noi abbiamo appena concluso un seminario online di due giornate, tra l'altro partecipatissimo, più di 200 colleghi hanno seguito le due edizioni e abbiamo coinvolto esperti provenienti anche da altre discipline che hanno già contribuito ad ad allargare i contenuti che noi vogliamo vengano poi, siano parte di una formazione avanzata per il fisioterapista. Sono già al lavoro un paio di università per proporre un master di specializzazione in questo ambito e noi come albo nazionale dei fisioterapisti sicuramente garantiremo anche dei percorsi formativi di perfezionamento attraverso le università affinché queste figure siano poi formate anche osservando criteri condivisi e criteri uniformi. Ecco, allora noi ringraziamo la dottoressa Melania Salina per essere stata qui con noi oggi nostra ospite, appunto la salutiamo, la dottoressa è vicepresidente della commissione d'albo nazionale fisioterapisti. Grazie per i suggerimenti e tutte le informazioni che ci ha regalato su questa preziosa figura del sistema sanitario nazionale. A voi e grazie per il lavoro che fate. Grazie. Buona giornata.